Restano un paio di inquilini nel condominio Parvadomus di via Fontevecchia, l'ultimo edificio evacuato con ordinanza sindacale il 26 giugno scorso. Da quando incarica il sindaco Diego Ferrara sono in totale 13 i palazzi evacuati a causa del dissesto idrogeologico che sta interessando il versante nord della città di Chieti, nello specifico via Renazze, via Dolminzoni, via Fontevecchia e via Gran Sasso. Una situazione che sta interessando 64 famiglie e circa 130 persone. L'emergenza che si è aggravata nell'agosto del 2023 dopo un anno di monitoraggi e analisi. In termini di cifre sono già due i milioni di euro stanziati per la mitigazione del rischio, tra cui la ristrutturazione e la messa in sicurezza del viadotto Gran Sasso e della stessa via fino al termine all'autobus. Di questi 140 mila euro sono già stati utilizzati per mettere in sicurezza la frana di via Renazze dell'anno scorso. Nuovi 600 mila euro sono stati stanziati per migliorare e potenziare il monitoraggio. Il comune poi ha provveduto a richiedere 750 mila euro, di cui 350 già erogati per il contributo di autonoma sistemazione. Risorse per venire incontro ai cittadini che dovranno sostenere spese di affitto, alloggio in altra sede. Entro i primi giorni della prossima settimana, conferma il primo cittadino, partirà il nuovo bando rivolto a privati ed associazioni per cercare di reperire nuove sistemazioni da mettere a disposizione degli sfollati. Siamo come amministrazione ed io personalmente come sindaco favorevole a quelle proposte che mi stanno, che cominciano ad arrivarmi da diciamo comitati della zona e operatori privati, progettisti privati per un diciamo processo di delocalizzazione sempre all'interno della città di questa di questa zona. Con la delocalizzazione eviteremo eviteremo la dispersione, una diaspora negativa di cittadini che potrebbero andare anche a vivere e cercare residenza in paesi vicini. Noi vogliamo che tutto rimanga al sicuro e nella nostra città.